Esce forte Cattano, Davide Cattano del Garlate, del Garlate, davanti a tutti, è l'unità per il 517 che viene superato in questo momento per gli ottavi di finale della categoria G5 e G6 e allora passa il vantaggio con 542 Kim Koneller e poi in seconda abbiamo il Garda, il Garda in seconda posizione E attenzione però c'è ancora Cattano in terza, Davide Cattano e cerca il sorpasso sull'ultima linea Non lo esce